SEL si rimette all'aula 5 stelle, votazione aperta. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Identici 13.6, Ciprini 13.7, Marroni. Dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario. No, chiedo scusa. Onorevole Marroni, prego. Revochiamo la votazione. Schiacci il bottone? Perfetto. Grazie, Presidente. Solamente per ricordare che è visuta un po' incomprensibile il parere contrario del Governo a questo emendamento, perché era frutto di un ordine del giorno che era stato accolto in un precedente provvedimento. Grazie. La ringrazio. Non bisogna altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Contra la Commissione del Governo, favorevole il redattore di minoranze. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 13.9, Ciprini, contraria Commissione del Governo, favorevoli i redattori di minoranze. Votazione aperta. Valente, provi a votare. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 13.1, Ciprini, contraria Commissione del Governo, favorevole il redattore di minoranze. Votazione aperta. La Camera respinge 13.2, Marco Meloni, accantonato. 13.700, Commissione, favorevole Commissione del Governo, contrario SEL, si rimette all'Aula 5 Stelle. Votazione aperta. E il 13.12 l'accantonato. Tancredi, Arlotti. Onorevole Tancredi, voti con le dita. Se no, si impalla. Eh, ma se si impalla. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo al 13.16, Centemero, contraria Commissione, contro il Governo, si rimette all'Aula 5 Stelle, favorevole 5 Stelle. Votazione aperta. Dall'Osso. Non suggerisca il Governo, onorevole Gigli. Tidei. Colletti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 13.20, Ciprini, contraria Commissione del Governo, a favorevole del relatore di minoranza. Votazione aperta. Ciprini, contraria Commissione del Governo, a favorevole del relatore di minoranza. Votazione aperta. Grazie a tutti. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Il 13.25 Piccione è stato ritirato. Quindi passiamo ora al 13.30 Gribaudo, su cui c'è la riformulazione. Mi chiedono se il relatore può rileggere la riformulazione. Prego. Al comma 1, dopo la lettera G, aggiunge la seguente. Gbis, per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Di quella legge 12 marzo 1999, numero 68. Previsione della nomina da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la conferenza unificata a Stato, Regioni e Autonomie Locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria con il compito di Punto 1. Elaborare i piani per ottenere agli obbligati...